In molte province italiane negli ultimi anni si sta sperimentando l'apicoltura in città. Anche a Ravenna, ieri in municipio, è stato organizzato un incontro pubblico promosso dall'assessorato ai diritti degli animali in accordo con la Commissione Consigliare 4 Ambiente. L'appuntamento ha permesso di approfondire il quadro normativo vigente poiché sono stati presi in considerazione i pro e i contro di una pratica così nuova. L'apicoltura è stata sperimentata nelle altre grandi città. Lei cosa ne pensa? Come mai Ravenna può essere una città adatta? Da quanto ne so io, soprattutto Torino è una delle città in cui l'apicoltura è stata sperimentata in ambito urbano. Ravenna, essendo una città con molto verde e molti giardini, io penso che potrebbe fornire materiale alle api per sopravvivere e anche per produrre miele di ottima qualità. Ravenna, essendo una città industriale, ciò potrebbe influire negativamente? Indubbiamente le api necessitano di fiori. L'industria non è mai un terreno fertile per l'apicoltura, però è abbastanza decentrata rispetto alla città e non credo che possa creare dei grossi problemi.